Questo negozio è vecchio, è un negozio storico, è del 1904 e quindi ha passato due guerre. Nella seconda guerra era proprietario, era un ebreo, quindi avrà avuto di molte difficoltà, ci si può immaginare. Nonostante tutto è riuscita ad arrivare a noi, ad oggi. Ma non lo so se si arriva tanto più l'anno, purtroppo. Silvia e il marito archiviano le belle palle natalizie dipinte tutte in vendute e se l'epifania le feste le porta via, per loro come per tanti altri, le feste non ci sono proprio state. Nella centralissima via del Proconsolo è un'ecatombe, sono circondati da ogni parte da attività che hanno chiuso proprio per la crisi Covid e si sentono dei sopravvissuti. Molti hanno chiuso e quindi molte cose si vanno a perdere perché non le fanno più ma non c'è nemmeno nessuno che ha iniziato o che ha imparato a farle. Così muore l'artigianato artistico fiorentino di cui si parla tanto ma poi che si fa, chiede questa coppia, che se qualche agevolazione ha avuto è solo grazie al buon cuore del proprietario del fondo che hanno in affitto. Si è dato fondo ai nostri risparmi. La nostra opinione è che c'è poca attenzione nei confronti dell'artigianato artistico. Ci dovrebbe essere, a mio parere, una differenza tra l'artigianato di importazione e l'artigianato nostro.